Arriva la svolta nelle indagini sull'omicidio di Luigi Tommasino, il consigliere comunale del Partito Democratico a Castellamare di Stabe assassinato il 3 febbraio del 2009 da un commando che esplose almeno 13 colpi d'arma da fuoco mentre la vittima era in auto con il figlio, all'epoca di fatti appena 14enne, rimasto miracolosamente illeso. Arrestato come mandante, il boss Vincenzo D'Alessandro, che era a Nuoro dove stava scontando una misura alternativa. Indagato anche Sergio Mosca, esponente di spicco del clan D'Alessandro. Il gruppo di fuoco è stato individuato e condannato da tempo. I collaboratori di giustizia Salvatore Belviso, Renato Cavaliere e Raffaele Polito con il killer Catello Romano. Movente e mandanti erano rimasti invece nell'ombra 15 anni dopo le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata e coordinate dal PM del pool Antica Morra Giuseppe Cimmarotta riaprono il caso e puntano sui vertici del clan camoristico d'Alessandro di Castellammare emesse sei ordinanze di custodia cautelare.